Enzo Baldini, non dico l'età. Non ci interessa. Anche se è scritto. Interessa? No, perché c'è scritto. 1945, ma li porta talmente bene, non lo dimostra neanche. Allora, è stato professore ordinario di storia del pensiero politico all'Università di Torino, facoltà di scienze politiche, poi dipartimento di culture, politica e società. Nella stessa facoltà è inoltre insegnato teorie e storia della democrazia e metodi e risorse telematiche per la storia delle idee politiche. Vi ha anche creato e diretto il corso di laurea specialistica Reti telematiche per applicazioni sociali ed economiche. Dal 1995 al 2017 ha rappresentato l'Università di Torino nel centro interuniversitario Biblioteca Italiana Telematica. Qui c'è il VUV. Dal 1997 al 2019 l'ha rappresentata nel consorzio interuniversitario ICON, Italian Culture of the Net, istituito nel 1999. Ne è stato vicepresidente, membro del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo. ICON gestisce il corso di laurea triennale telematico di lingua e cultura italiana per studenti stranieri, con riconoscimento del titolo di studio da parte delle 19 università consorziate, ma ha anche corsi di lingua italiana e master. Dal 2001 al 2010 è stato responsabile scientifico del progetto Argentina dell'Università di Torino. Ha tenuto seminari e cicli di lezioni in diverse istituzioni culturali e università italiane e straniere. Ha partecipato con relazioni a convegni nazionali e internazionali. Ne ha organizzato numerosi gli stessi presso la Fondazione Filippo Torino e il Dipartimento degli Studi Politici dell'Università di Torino. È stato coordinatore, dal 2007 al 2013, del progetto internazionale Macchiavellismo e Macchiavellismi nella tradizione politica occidentale, secoli XVI-XX, con 21 unità di ricerca operanti in 14 paesi occidentali, dalla Turchia al Portogallo, dalla Romania agli Stati Uniti al Brasile, e che hanno dato vita a 24 convegni internazionali. Qui c'è il sito. Collabora a varie riviste, ha pubblicato libri manuali di storia del pensiero politico, curato volumi telematici, atti di convegni, pubblicati articoli siluisti e nazionali e internazionali. Principali argomenti di ricerca, istanze sociali e politiche in Germania all'inizio della riforma, l'utopia in età moderna e contemporanea, tacitismo e ragion di Stato, usi strumentali di Macchiavelli nella tradizione politica europea dal 500 al 900, liberalismo e democrazia. Questo è un meraviglioso curriculum, dice molto di Enzo. Adesso la parola. ci parlerà Enzo di un argomento, direi di estremo interesse, social media, intelligenza artificiale e i giovani, un problema del nostro tempo. A te la parola Enzo, grazie. Io adesso chiudo, disattivo audio e magari disattivo anche video. No, perché? Sì, l'audio tuo è disattivato. Grazie per questa roboante presentazione. Beh, devo dire che oggi vi parlerò di una tematica, di una problematica che vi è abbondantemente nota, ma che recentemente ha ripreso campo anche sullo slancio, non soltanto, della frenetica attenzione nei confronti dell'intelligenza artificiale, ma per dibattiti e pubblicazioni che hanno così rilanciato in maniera sostanziale le problematiche. Quello che ci ha detto, che ha detto Luisella sul mio conto, mi fa venire in mente quasi l'opportunità di una scaletta storico-cronologica di Internet, faremo meglio a dire del Web. Internet sono le connessioni fisiche, beh, ma non scendiamo a questo. Di fatto, come ben sapete, Internet nasce nel 1991-93 al CERN di Ginevra. Nel 1991 con la messa a punto del protocollo HTTP e della sua estensione ipertestuale al World Wide Web, le tre W che noi ritroviamo sistematicamente nelle nostre connessioni, nel 1991 era una realtà ancora interna al CERN, nel 1993 questi protocolli vengono resi pubblici. Ecco, forse questo ci serve per riflettere su quello che ha detto Luisella sul mio conto. Nel 97, quindi 93, appena nato, guerra di protocolli, non ancora ben identificato il protocollo definitivo, nasce la Biblioteca Italiana Telematica. Ecco, allora era un centro interuniversitario e comprendeva 14 università italiane. Allora le università italiane erano inferiori ai 50, 46-47 se non ricordo male. Due anni più tardi la Biblioteca Italiana Telematica metteva online volumi, attenti, volumi che andavano digitati, non potevano essere presi con scanner o altro, andavano digitati e codificati. La codifica che noi usavamo e che io ho dovuto imparare era XML Tei ed era una codifica non particolarmente complicata, ma insomma che scoraggiava non pochi. E due anni più tardi, ingolositi da questo, abbiamo messo a punto, con sede Pisa, per l'appunto ICON, Italian Culture on the Net, la prima università online al mondo. Abbiamo battuto gli Stati Uniti. Pensate che lì era un consorzio, un vero e proprio consorzio universitario, allora le università erano da prima 24, poi 21, la quota di ingresso era piuttosto alta perché la costruzione dei materiali era costosa anche se avevamo sovvenzioni ministeriali piuttosto rilevanti e abbiamo dato allo Stato italiano un aiuto non da poco, dal momento che era una laurea triennale di lingua e cultura italiana, per cui nelle scuole italiane all'estero potevano poi insegnare i laureati in lingua e cultura italiana, una laurea che ciascuna delle università consorziate riconosceva e che poteva essere poi spesa in vario modo anche per insegnare l'italiano in queste scuole italiane all'estero. Ecco, vi posso assicurare, mi capitava di parlarne proprio in questi giorni, esperienze entusiasmanti, esperienze allora straordinariamente all'avanguardia, per le quali, per assurdo, era molto facile trovare, relativamente facile soprattutto rispetto a oggi, trovare dei finanziamenti e a me è toccato, è capitato di estenderle alla mia università e non soltanto, alla mia facoltà e non soltanto e vi assicuro con delle battaglie interne non da poco, di vario tipo, che non sto qui a ricordare per non perdere tempo. Ecco, voglio soltanto dirvi questo, nel 2001 abbiamo avuto, lanciato il progetto pilota dopo aver preparato i materiali di Italian Culture e siamo andati a presentarlo al Presidente della Repubblica, Ciampi, che ci ha accolto in Pompamagna e che non ci credeva. Oh, era molto, molto dubbioso. Alla fine dei tre anni, con i primi laureati, ha voluto dare lui le lauree nella settimana della cultura ricordando in maniera molto onesta i suoi dubbi di partenza. Quindi siamo alla fine degli anni 90, anche se le prime reti interne e funzionali a qualcosa avevano, come voi sapete, una matrice militare, fondamentalmente militare. ARPANET, che nasce nel 1969 e che inizialmente collega solo due università con il Centro di Ricerca Militare Americano ARPA e i due centri universitari, perché la seconda è molto più che l'università, erano la UCLA, l'Università di California Los Angeles e lo Stanford Research Institute di Palo Alto, come dire la Silicon Valley, il punto di riferimento della Silicon Valley, che era per l'appunto una realtà nata all'interno dell'università, che era poi del tutto autonoma, un incontro tra imprese private, enti privati e strutture di ricerca. E adesso balziamo a qualcosa che ci tocca da vicino per l'argomento che trattiamo. 2004 nasce Facebook. Quest'anno è il ventennio della nascita di Facebook e anche qui è un dibattito. Nel 2009, in realtà 2008-2009, nasce il primo smartphone, vale a dire il cellulare con connessione internet, continuiamo a ripetere questo termine BlackBerry. In realtà l'IBM ne aveva lanciato uno già nel 1992, ma non era smartphone. Nel 2002, arriviamo a ieri, il 30 novembre 2002 viene lanciato, reso pubblico, reso pubblico ChatGPT, che prenderà il nome poi di ChatGPT3 per distinguerlo da quello più avanzato che verrà messo a punto e reso disponibile sempre da OpenAI, neanche un anno dopo, soltanto nel marzo del 2023, scatenando un dibattito enorme. Un dibattito enorme sulla pericolosità di questa realtà. In realtà, di fatto, si trattava, sì, senza ombra di dubbio, dell'intelligenza artificiale generativa, cioè un'intelligenza artificiale, tra virgolette, che, termine intelligenza ovviamente, che restituiva qualcosa in più rispetto ai materiali che aveva ingurgitato e sui quali era stata allenata. Ecco perché era generativa e nel caso di ChatGPT era semplicemente un sistema di generazione di linguaggio naturale, molto, ma molto articolato, con miliardi, ma ecco non sto, di strumentazione, di apprendimento e di dati acquisiti e controllati. Bene, la discussione, il dibattito che nasce nella tarda primavera, nella primavera, nella tarda primavera del 2023, porterà OpenAI a ribadire che la nuova versione di ChatGPT non verrà sviluppata. ChatGPT 5 sospeso. Adesso sappiamo che è in uscita, viene quantomeno annunciato come tale, come dire, le cose sono anche in questo cambiate. Beh, ad ogni buon conto, da quello che vi ho detto avete capito e che vi è stato detto, avete capito che la mia formazione è una formazione umanistica e che sono solo curioso di problematiche tecnologiche e vi trasferisco in qualche misura questa curiosità nella quale per la verità non sono più aggiornato negli ultimi anni se non di riflesso e ve la trasferisco sulle tematiche che mi sono da sempre chiare, le problematiche politologiche, quanto può essere pericolosa e quindi la centralità in questo dei social media, l'intelligenza artificiale che nel frattempo ha incrementato, arricchito e sostanzialmente modificato i social media come vedremo e dall'altra la scuola, l'insegnamento scolastico, realtà che ne hanno goduto non poco. Ecco, io pensavo di impostare questa mia chiacchierata in maniera diversa fino a quando non sono venuto a conoscenza di un libro che è appena uscito negli Stati Uniti, opera del politologo sociale Jonathan Haight che insegna ethical leadership alla Stern School della Business della Stern School of Business della New York University. Non a caso uno dei pensatori più popolari e citati nella Silicon Valley, là dove per l'appunto intelligenza artificiale e soprattutto social hanno messo le basi inizialmente. e il libro è uscito nel marzo, il mese scorso, e ha subito scatenato un furioso dibattito, ma scatenato e anticipato perché il libro, secondo una logica dei divulgatori di tecnologia, oltre che studiosi di divulgatori, è stato pubblicato a tratti anticipato nella prestigiosa rivista The Atlantic che era la rivista dell'innovazione dalla metà dell'Ottocento e che ha ospitato le realtà più autorevole. Col titolo è già un programma. The Anxious Generation How the Great Rewarding of Children is causing an epidemic of mental illness. Illness, proprio malattia. Ecco, una traduzione potrebbe essere la generosa la generazione ansiosa come il grande ricablaggio dell'infanzia sta causando una epidemia di malattie mentali. Ricablaggio, rimappatura, termine tecnico, ma termine usato nelle neuroscienze. ecco, il suo punto di partenza che non è limitato alla realtà americana è di ordine numerico. Che cosa dicono le ricerche, le statistiche, gli esperimenti accademici? E ribadisce Head la stretta correlazione tra l'utilizzo degli smartphone e dei social media dai primi anni dieci del duemila in poi, quindi la correlazione tra smartphone e social media con il progressivo aumento dei livelli di depressione, ansia, autolesionismo tra gli adolescenzi, tra gli adolescenti. il tutto viene argomentato con l'appoggio di diagrammi, di esempi, di contradduzioni alle critiche che l'autore dava per scontate che in parte erano già arrivate attraverso le sue precedenti pubblicazioni. l'idea base del libro è che la rapida diffusione degli smartphone e la prevalenza di un modello di genitorialità iperprotettivo hanno provocato una progressiva riduzione del tempo trascorso dai giovani offline nella realtà concreta. questa condizione sarebbe la causa di una sorta di ricablaggio delle connessioni sinaptiche durante l'infanzia e l'adolescenza e di un conseguente aumento delle malattie mentali. ecco subito qualche dato negli Stati Uniti i livelli di ansia e depressione giovanili rimasti abbastanza stabili negli anni 2000 secondo diversi studi puntualmente citati nel libro sono cresciuti di oltre il 50% dal 2010 al 2019 la percentuale di suicidi è aumentata del 48% nella fascia di età compresa tra i 10 e i 19 anni le adolescenti le ragazze tra i 10 e i 14 anni sono state le più colpite tra di loro questa percentuale di suicidi è aumentata del 131% e ci sono altri segnali di pericolo ben presenti all'interno di strutture sociali trasformate avrebbe meglio dire sconvolte dalla tecnologia cito il peggioramento della performance scolastica la frammentazione della capacità di attenzione l'impoverimento delle relazioni umane il disinteresse crescente per i rapporti sessuali la tendenza a restare nella famiglia di origine e la ritrosia ad avviarne una propria una diffusa avversione al rischio a causa della rarefazione delle esperienze dirette avversione che tende ad abbassare la sticella dell'ambizione personale rispetto alle precedenti generazioni inutile dire inutile dire che il libro come già vi ho anticipato ha scatenato un dibattito fortissimo anche a causa della visione apocalittica per certi aspetti dell'autore Heitz è infatti convinto che l'ambiente in cui i ragazzi crescono sia sono parole sue ostile allo sviluppo umano e che la causa dei drammi sia l'attraversamento della pubertà di nuovo parole sue con in tasca uno strumento sempre acceso che ti spegne rispetto alla realtà circostante avete capito che è lo smartphone e ciò grazie anche a un'incessante produzione di dopamina sottolineo questo termine attivata sui social ovviamente da like retweet commenti fino a provocare una dipendenza che impedisce ogni rientro in un universo senza filtri l'universo senza filtri è la realtà reale fisica perché nella realtà social i filtri ci sono e come io dialogo con quelli che sono in sintonia con me che la pensano come me che hanno le mie stesse predilezioni e con loro mi confronto e confrontandomi con loro ecco arrivo a rafforzare le mie convinzioni anzi devo dire a rafforzare le mie certezze che non vengono minimamente messe in dubbio ecco quindi si vive in una realtà di certezze ecco perché è come nella frase precedente che ho citato precedentemente la sticella del rientro nella realtà si abbassa nei social o si alza in maniera enorme non si riesce più a rientrare nella realtà perché? per un motivo molto semplice perché la realtà oggettiva che viviamo quotidianamente è una realtà conflittuale è una realtà nella quale io devo convivere con altri che la pensano diversamente da me e devo attutire lo scontro nei loro confronti per conservare la mia socialità per restare in dialogo con loro laddove invece nei dialoghi virtuali sui social e non solo questo problema non esiste non esiste proprio perché le interazioni virtuali sono come vi ho detto prima condizionate da più cose ma perché scelgo io e in che modo condizionarle e c'è un'altra realtà drammatica che scatta subito ora che ci fa capire il problema giovanile che entra in scena immediatamente nel dialogo sui social è sempre presente il tema più o meno esplicito della reputazione come gli altri mi considerano e questa reputazione mi impone è un comportamento difensivo sistematico io vivo perennemente in difesa a scapito di che cosa? di una modalità esplorativa che è quella naturale di bambini e di giovani che si affacciano alla vita e che questi rapporti sociali li devono imparare quindi perdono la capacità di vivere la socialità ma perdono soprattutto questa modalità esplorativa come viene detta cioè quella che ci mette in discussione che ci permette di metterci in discussione per catturare ambiti e situazioni che per noi diventano sempre più vitali e allora ecco questa realtà che il libro di Hayth mette bene in evidenza e che era già stata abbondantemente messa in evidenza pensa a Luciano Floridi vale a dire la realtà on life dove la dimensione online e la dimensione offline convivono si intersecano in continuazione che è una realtà ben più presente nella nostra vita di tutti di quanto non si voglia normalmente ammettere un'altra citazione dal libro anche una ragazza che è consapevole del fatto che Instagram può favorire l'ossessione per la bellezza l'ansia e i disturbi alimentari questa ragazza potrebbe preferire correre questi rischi piuttosto che accettare l'apparente certezza di essere fuori dal giro di essere messa all'oscuro ed esclusa ecco l'esclusione la difesa di cui vi parlavo prima e va da sé che subito questa visione molto marcata molto radicale suscita critiche la prima è che non si può attribuire ai social la responsabilità di una serie di tendenze che avevano erano ben presenti quando i social sono nati magari si sono esacerbate ma non le hanno create loro e l'altra ancora è il fatto che le semplificazioni che Hyde ha offerto nel suo libro 400 pagine uscito a New York dalla Penguin's Book e dalla casa editrice corrispettiva di Londra è ben presente ovviamente sia in cartaceo che non su Amazon e non solo beh Hyde con la sua semplificazione avrebbe creato più problemi che altro visto che il disagio giovanile sarebbe molto ma molto più complesso e andrebbe studiato con ben altre capacità e motivazioni ecco una replica sempre tra virgolette di Hyde non riesco proprio a vedere un percorso causale attraverso cui le sparatorie nelle scuole americane la disuguaglianza o il racismo avrebbero indotto le ragazze in Australia a cominciare improvvisamente ad auto lesionarsi o a suicidarsi nello stesso movimento in cui hanno cominciato a farlo le ragazze americane eh già i social hanno una dimensione mondiale linguistica se volete ma mondiale e allora ecco che le situazioni non hanno neanche bisogno di riverberarsi nascono ahimè drammaticamente in contemporanea nelle realtà più lontane un altro personaggio cambiamo scena entriamo sulla scena dell'intelligenza artificiale Geoffrey Hinton il padre delle reti neurali premio Turing il Nobel della tecnologia nel 2018 ora uno dei critici uno di coloro che non esita a denunciare ripetutamente i pericoli dell'intelligenza artificiale da lui tenuta a battesimo bene Hinton sostiene che ci aspetta un mondo nel quale le quantità di testi immagini e video artefatti o falsi messi in circolazione potrebbero rendere sempre più difficile distinguere il vero dal falso a discapito delle più elementari questioni etiche e dei basilari valori democratici abbiamo avuto un esempio mi è capitato di occuparmene di scriverci dell'effetto dei social e dell'intelligenza artificiale in elezioni importanti come le elezioni americane già quelle del 2016 e poi ancora forse non è un caso che proprio adesso stia riprendendo il tutto significativa è un'immagine della società americana di un'immagine una il frutto di una indagine fornita da una società americana di cyber security imperva secondo la quale nel 2022 quindi non ieri nel 2022 è una data di scrimine vuol dire prima che gli esiti recenti rivoluzionari dell'intelligenza artificiale con chat gtp e altro del genere vale a dire l'intelligenza artificiale generativa si imponesse allora i dati di questa indagine circa che concludeva così circa la metà del traffico nel web è stata prodotta da bot cioè da non umani ma un terzo di questa metà già di per sé inquietante è generata da bad bot vale a dire da sistemi automatici maligni che si fingono umani una percentuale che dal 2022 oggi sicuramente è cresciuta enormemente e quindi potete ben capire che la rete e non soltanto la rete è sempre più pervasa da queste realtà del tutto false e strumentalmente false ecco ma la rete ma l'intelligenza artificiale si è portato anche tra le altre cose le realtà importanti e non soltanto nell'ambito medico va da sé dove la cosa è più trasparente l'esempio che capita immediato è Neuralink di Elon Musk che secondo uno dei filmati che lui ha messo immediatamente online ha permesso recentemente ad un disabile incapace di muoversi completamente di giocare a scacchi con il suo pensiero e ancora di più di questi giorni è la notizia di Voice Engine il nuovo sistema di Open High quella di di ChatGTP la società di ChatGTP che è in grado di clonare voci in 15 secondi sino a un anno fa si parlava di minuti diminuivano sempre i minuti la cosa ci sconcertava 15 secondi di registrazione della nostra voce la nostra voce può essere clonata ecco nel caso presentato permette di far parlare persone che hanno perduto completamente capacità vocali ma la pericolosità di una soluzione di una tecnologia di questo genere è più che evidente possono farci dire come già riescono ma con una facilità ben maggiore cose che noi neanche ci sogneremmo di dire e per restare in questa cronologia di immediatezza e spero di poter di avere tempo di ritornarci sopra un po' di più il 31 gennaio scorso Mark Zuckerberg insieme ad altri dirigenti CEO amministratori delegati di piattaforme social ha dovuto difendersi di fronte al Senato americano dall'accuso di aver metto in serio pericolo la sicurezza dei minori 11 gennaio succedeva questo il 15 febbraio scorso il sindaco di New York Eric Adams ha annunciato l'avvio di una causa legale contro i maggiori social network io pensavo di parlare solo su questo è online questa denuncia 311 pagine dettagliatissime con note preziosissima ed è una denuncia una causa legale con richiesta di danni e il 13 marzo per restare in questa rassegna breve sommaria la Camera dei rappresentanti americani ha approvato a larghissima maggioranza la legge che apre la strada al diveto a usare TikTok negli Stati Uniti il social network cinese che sta imperversando tra i giovani social basato fondamentalmente su filmati e immagini molto brevi real e con questa normativa si concedono sei mesi all'azienda proprietaria di tiktok per vendere la piattaforma negli Stati Uniti trascorsi i quali sei mesi tiktok sarà bandito dagli Stati Uniti ecco è il momento ora dopo aver parlato così dell'America soprattutto di estendere lo sguardo all'Italia e lo faccio con due ricerche la prima dell'istituto di demoscopica dell'istituto demoscopica del 9 febbraio scorso nel nostro paese circa 1,1 milioni di italiani con meno di 35 anni sono a elevato rischio di dipendenza da social media secondo la ricerca sono 430.000 le persone tra i 18 e i 23 anni 390.000 tra i 24 e i 29 308.000 tra i 30 e i 35 inutile che vi sottolinei il fatto che i più numerosi sono quelli tra i 18 e i 23 anni poi vedremo delle cose ancora più drammatiche in età ancora più tenere costoro hanno bisogno di usare sempre di più i social senza riuscire a smettere pur avendo la consapevolezza della pericolosità dei social della perdita di tempo e però che incidenza hanno i social hanno comportamenti ansiosi o agitati legati anche al mancato utilizzo dei social e naturalmente non esitano a sacrificare ore di studio e di lavoro per dedicarsi ora fatto che il coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi sia cresciuto in maniera esponenziale non solo con la pandemia e subito dopo la pandemia ma per l'appunto con l'ingresso sui social dell'intelligenza artificiale che seleziona sempre di più il gruppo e che fornisce risposte in automatico sempre più soddisfacenti quindi radica in profondità e allora ecco che i social riassunto della ricerca battono gli amici la vita reale concreta con gli amici incontrati quotidianamente e in quale percentuale 85,7% social 36,6% contatto quotidiano con gli amici numeri drammatici e non da meno sono quelli di uno studio dell'università cattolica pubblicato il 15 febbraio scorso il titolo dello studio è alfabetizzazione mediatica e digitale a tutela dei minori comportamenti opportunità e paura dei navigatori under 16 ecco siamo arrivati ai più giovanissimi il 94% dei minori cito tra gli 8 e i 16 anni utilizza uno smartphone tra gli intervistati il 68% ne possiede uno personale il 28% lo ha ricevuto prima dei 10 anni il 25% dopo gli 11 anni 7 ragazzi su 10 tra gli 8 e i 10 anni usano regolarmente i social e le piattaforme streaming e le usano prevalentemente ovviamente attraverso smartphone effetti enormi concreti sfide continue tra i giovani la più nota bloccata dagli insegnanti che vedevano arrivare a scuola questi bambini con questi segni sul viso la cicatrice francese e cos'è la cicatrice francese veniva stritolato tra le dita la parte del volto prevalentemente sopra gli zigomi fino a creare un segno violaceo e tanto più il segno era consistente tanto più la sfida era vinta naturalmente il tutto veniva documentato con foto o filmati pubblicati immediatamente sui social su tiktok in particolar modo e ancora secondo i dati della neuropsichiatria infantile dell'ospedale Bambi Gesù di Roma i comportamenti autolesivi sono cresciuti del 75% negli ultimi dieci anni nei ragazzini e nei ragazzi tra i 9 e i 17 anni nella maggior parte dei casi per fortuna chi usa la lametta non la vuole fare finita si chiama autolesionismo non suicidario ma fa paura allo stesso qualcuno di questi confessa dottore quando esce il sangue mi sento meglio altri ancora lo fanno per imitazione per essere accettati dai coetanei nel gruppo e esibire foto sui social ma prevalentemente lo si fa ci si autolesiona perché si sta male e dopo averlo fatto si avverte quasi miracolosamente una sorta di sollievo non vi è dubbio che si tratta di una comunicazione di disagio agli adulti una comunicazione che non viene ovviamente percepita nella maggior parte dei casi e non solo perché i tagli sono nei punti meno visibili lingui nelle cosce la frattura tra giovani e adulti anche a livello genitoriale si fa sempre più marcata dicevo prima 31 gennaio 2024 i senatori americani hanno attaccato pesantemente gli amministratori delegati di meta cioè tra gli altri facebook e instagram x cioè twitter tiktok snap snapchat e discord gli ultimi non ultimi neanche ormai affermati e lo hanno fatto in una audizione alla commissione giustizia sui rischi delle piattaforme social per bambini e adolescenti rischi rischi forti era l'ottava volta che Mark Zuckerberg a partire dal 2018 veniva convocato ed è stata anche la più dura avete le mani sporche di sangue gli ha gridato e anche agli altri una senatrice presenti i genitori di ragazzi travolti da ansia depressione autolesianismo e tentativi di suicidio più riusciti o meno Zuckerberg ha avuto una reazione per lui del tutto insolita si è alzato in piedi si è rivolto al pubblico cioè ai genitori e ha dichiarato loro praticamente chiedendo scusa parole sue mi dispiace per tutto quello che avete provato nessuno dovrebbe passare attraverso le cose che le loro famiglie hanno sofferto ha poi subito aggiunto che le sue piattaforme fanno di tutto per segnalare i pericoli cosa non esattamente vera ma questo è secondario almeno in questo momento 15 febbraio del 24 come vi ho detto il sindaco di New York Eric Adams che peraltro nel consueto discorso annuale del 24 febbraio sempre 24 febbraio scorso si era scagliato contro i social definendoli tossine ambientali aveva annunciato l'avvio di una causa legale contro i maggiori social network Facebook Instagram TikTok Snapchat YouTube accusando le loro piattaforme di causare danni e di causare danni alla salute mentale di bambini e ragazzi è giunto il momento di renderli responsabili di aver tentato alimentato la crisi nazionale della salute giovanile e questo è il primo passo ha affermato Adams nel proprio profilo X cioè Twitter i giovani sono ormai dipendenti in massa dalle piattaforme degli accusati si legge nel documento come vi ho detto di 311 pagine presentato alla Corte Suprema della California e non a caso perché è in California che le società hanno sede e il comune o meglio la città di New York nella sua denuncia è stata affiancata dal Dipartimento dell'istruzione della città e dalla New York City Health and Hospital Corporation noi diremmo distretto scolastico e istituzioni sanitarie quelle che hanno subito maggiori danni e che hanno dovuto spendere di più per far fronte ai danni subiti la condotta dei social ha rappresentato non solo una crisi per la grande mela ma anche un onere finanziario e questo perché hanno causato nella società perché quanto causato dalle società si riversa sugli ospedali sulle scuole e su altre comunità il sindaco Adams descrive gli adolescenti di New York come costantemente disperati incollati agli schermi dei telefoni e afflitti da una condotta scolastica negativa inoltre carenti di abilità sociale a causa della dipendenza dai soci e ancora sono parole sue questa causa e il piano di azione e il piano di azione che la riguarda fanno parte di una resa dei conti più ampia che plasmerà la vita dei nostri giovani della nostra città e della nostra società negli anni a venire una consapevolezza chiara di un dramma che diverenterà sempre più gigantesco e insostenibile e che produrrà non soltanto disagi a singoli ma alle istituzioni alla democrazia e aggiungete quello che volete nel documento che non ho tempo ovviamente per descrivere vi trovate prove evidenti delle accuse mosse ai social primo posto ricerche e studi che sono sistematicamente citati in nota come se si trattasse di un saggio con le opere di Jonathan Haidt quello citato all'inizio che ricorrono sistematicamente documenti interni delle piattaforme che rivelano strategie progettate per mantenere gli utenti connessi il più a lungo possibile sfruttando consapevolmente la vulnerabilità dei giovani testimonianze di genitori insegnanti e giovani stessi che hanno sperimentato gli effetti negativi delle piattaforme di social media storia e analisi badate bene storia e analisi delle caratteristiche di ognuna delle piattaforme accusate per dimostrare come abbiano contribuito alla dipendenza e alla mancanza di controllo genitoriale dati demografici sulle fasce ed età coinvolte e sui diversi livelli di utilizzo delle piattaforme ed ecco l'esordio nell'ultimo decennio il coinvolgimento degli americani e dei new yorkesi con i social media è cresciuto in modo esponenziale e nel modo più drammatico tra i giovani l'esplosione dell'utilizzo non è casuale è il risultato degli sforzi studiati dagli accusati per indurre i giovani a utilizzare compulsivamente le loro piattaforme di social media per aumentare costantemente le proprie entrate pubblicitarie queste caratteristiche di progettazione includono un'azione continua generata da algoritmi ecco l'intelligenza artificiale per mantenere gli utenti in uno stato di flusso indotto per ricompense variabili e intermittenti che manipolano la somministrazione di dopamina ecco che riemerge per intensificarne l'uso nel 2021 il 77,3% degli studenti e delle scuole superiori di New York City ha riferito di trascorrere una media di tre o più ore al giorno sui social e per quanto consapevoli della loro dipendenza sembrano impotenti a fermarsi e più avanti Instagram Facebook TikTok Snapchat e YouTube quelli denunciati hanno riprogrammato il modo in cui i giovani pensano imparano sentono e si comportano i mi piace i like hanno sostituito l'intimità delle amicizie adolescenziali e ancora più avanti a livello nazionale i tassi di suicidio tra i giovani sono in aumento allarmante del 57% le visite al pronto soccorso per disturbi d'ansia sono aumentate del 117% nel 2019 una ragazza su 5 delle scuole superiore aveva progettato il suicidio nel 2021 una ragazza su 3 prende seriamente in considerazione di tentare il suicidio e poi puntuali citazioni delle dichiarazioni sui danni provocati dai social fatti dal presidente Biden e dalle varie autorità competenti con costante con costante precisazione quali i controlli parentali sono sistematicamente inefficaci e fuorvianti oppure gli accusati hanno ripetutamente mentito sulle loro responsabilità o infliggono ai giovani modelli e standard di immagini impensabili impensabili e improponibili e ancora hanno preso di mira i bambini in età scolare come mercato principale del resto riportano nel 2022 solo negli Stati Uniti Facebook Instagram Snapchat TikTok X cioè Twitter e YouTube hanno ricavato complessivamente quasi 11 miliardi di dollari dalle entrate pubblicitarie somministrate ai quasi 50 milioni di giovani utenti di età inferiore ai 18 anni che rientrano tra le categorie più vulnerabili il che la cifra la cifra in un anno in un anno 50 11 miliardi di dollari il che fa presagire la consistenza decisamente straordinaria della cifra che si intende richiedere in caso di rinvio a giudizio ne manca il riferimento al fatto che la città di New York è in buona compagnia visto che ben 41 stati hanno fatto causa a meta vale a dire la società di Instagram e Facebook aducendo i medesimi motivi la maggior parte di questi stati in una class action altri separatamente insomma nella ricorrenza dei 20 anni della nascita di Facebook quest'anno per l'appunto le autorità americane hanno deciso di dichiarare guerra ai social e forse l'imminenza della tornata elettorale ha pesato non poco sulle loro decisioni mi fermo ho parlato troppo Luizella devi riattivare l'audio e anche voi se volete intervenire sì noi siamo ovviamente rimasti io ti confesso molto molto impressionate molto colpita hai fatto una straordinaria e impressionante direi quadro di questa situazione che suscita in noi tantissimi interrogativi io tra l'altro vedo che con noi ci ha raggiunto Edvige Venezelli credo che sia ancora presente che è una ben nota neuropsichiatra infantile e che io inviterei l'ho vista adesso non vorrei che fosse Edvige mi senti ti evoco ecco Edvige cara scusa io mi permetto tanto di darti il benvenuto perché sei hai partecipato a questo e veramente credo che tu possa se non ecco darci delle delle risposte delle indicazioni tenendo conto della tua esperienza alla luce delle cose delle delle incredibili vicende che ci ha illustrato Enzo e che devo dire suscitano la nostra perlomeno la mia angoscia Edvige tanto allora benvenuta benvenuta in questo ciclo e se puoi darci qualche illuminazione in base alla tua esperienza di neuropsichiatra infantile obiettivamente il rilievo che è stato fatto ha fatto riferimento anche ai colleghi di Roma che hanno le stesse esperienze nostre ahimè è un quadro ben definito di contagio di di influenza negativa sui ragazzi è esistente e ha episodi anche catastrofici progressi non recenti io ricordo sul caso dell'Erica di Novi Ligure il club che erano sorti nei social a sostegno di quello che aveva fatto il l'influenza nell'anoressia nervosa è marcata marcata perché hanno questa sfida onnipotente su poter fare meno del cibo e su questo peso da raggiungere in maniera sempre meno sempre più inadeguato e è un bisogno con un sostegno che è tratto logico sostenuto anche dal mondo della moda che presenta a volte delle immagini spaventose io adoro Armani ma le sfilate di Armani sono sfilate di scheletri umani bellissimi ma veramente impressionanti come modello più che in altri settori il persona che ha delle grandissime validità sicuramente estetiche però il modello proposto veramente pesante pesante il l'uso i giovani ma non solo i giovani la testimonianza del nostro reparto ormai è consueto che la visita di genitori di ragazzi adolescenti problematici sia silenziosa e vengono papà e mamma e invece come ti aspetteresti chiedere cosa hai fatto oggi che quello che hai avuto come vai come ti senti eccetera si piazzano seduti vicino che ha un valore comunque però accendono il loro smartphone e papà e mamma e ragazzino fanno una seduta di gruppo col personale che mi dice pensi a casa se questo è una situazione di ricovero in cui c'è un punto rotta di crisi della famiglia pensa nel consueto nell'ora del tasto nell'ora in cui si vedono l'uso del ci ha dato tanto ci ha dato tanto di positività perché ci facilita lo sto insieme stasera ci facilita ascoltare voci illustre come quella del professore e senza dover fare spostamenti complessi ci dà tanto ci dà tanto ci facilita però dovremmo pensare a indurre una autoregolazione adulti e ragazzi ma anche gli adulti perché gli adulti ormai sicchi noi passiamo la quantità di tempo collegata a questo che è assurdo con dei picchi poi in occasione delle feste siamo usciti recentemente da Pasqua con le sfide ai disegnini più belli ai messaggi culturali più ricchi perché sono arrivate anche delle bellissime immagini della Pasqua nell'arte però accanto a questo di tutto di più il tempo che dedichiamo e lo stile ormai ha quelle caratteristiche che ho detto molto bene di una dipendenza siamo veramente un po' esagerando tutti sull'uso e sull'abuso il come difenderci Luisella abbiamo bisogno di voi e di una riflessione globale sulle positività indubbie facilitati dal covid che ci ha costretto a questo e nel covid ci sono state di grande utilità sull'isolamento dopo ci è rimasta la costituzione a questi incontri facili belli agli scambi più 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 ricchi ci arricchiscono sicuramente nel quotidiano la quantità di tempo è quella di una dipendenza è brutto dirlo ma non penso che e quindi dovremmo usare le strategie cognitivo comportamentale ci dice psicoeducazione ci dice riscoprire l'attività fisica riscoprire il piacere di stare direttamente insieme e noi fruiremo di te con Rossella prossimamente torte domani però dobbiamo autoindurci questo e diffondere una cultura sul bisogno di una educazione all'autocontrollo rispetto ad atteggiamenti ossessivi filtrando maggiormente il positivo e tagliando maggiormente le negatività questo è quello che mi ha stimolato ascoltare questa riflessione e che ci stimano ad un percorso educativo grazie grazie a tutti e due grazie a Misele grazie a professore Valdini grazie grazie io qui naturalmente adesso chiamerei la Gabriella Gabriella Taddeo che ha scritto che ha detto cose estremamente importanti in un'altra conversazione qui si parlava di democrazia e qui credo che anche qui in qualche modo sia in gioco a me mi ha molto colpito il termine contagio perché in effetti forse siamo veramente alle prese con quello che nell'ottocento parlavano di un contagio emotivo è soltanto che qui è su una scala questo contagio emotivo e si propaga in una maniera che è assolutamente incontrollabile questo fenomeno cosa ne dite io sto raccogliendo tutta una serie di impressioni che voi mi date e sto annotando e mi sto scusami Gabriella mi sto anche chiedendo come ci si può difendere perché ho l'impressione che quelle risposte che vengono date tipo le varie condanne giuridiche eccetera siano del tutto inadeguate siano estremamente povere non servono proprio a niente sono risposte antiquate cosa dite e quali altre strategie difensive potremmo adottare e qui mi blocco Gabriella scusami a te la parola come dire criminalizzare chi ha creato queste queste tecnologie che sono come abbiamo visto meravigliose ci prolungano la vita e così via ci curano meglio eccetera eccetera e un po' fare da scaricabarile io faccio un po' come dire il controccanto rispetto a tutte queste cose che ha detto Enzo e che purtroppo sono la realtà cioè ecco però rispecchiano un po' ciò che siamo perché come abbiamo detto anche in altre in altre lezioni e così via cioè noi ci vediamo allo specchio nel cosiddetto altrove nel mondo virtuale e come vediamo delle meraviglie pazzesche così vediamo le brutture con la caratteristica che qualunque dimensione qualunque aspetto viene moltiplicato in maniera esponenziale e questo fa sì che le cose brutte ci spaventano cioè non a caso sono aumentati e sono all'attenzione proprio anche del mondo giuridico tutta una serie di crimini di cui prima non avevamo contezza non c'erano no? Questo mi viene in mente come quanti incidenti stradali ci sono da quando abbiamo inventato le macchine no? allora lì però c'è stata immediatamente un'educazione all'uso della macchina ci sono state delle contromisure per controllare diciamo i danni che è il traffico e così dietro cioè li abbiamo contenuti l'evoluzione tecnologica che c'è è talmente rapida che non ci permette di sviluppare delle come dire difese chiameremole pure immunitarie visto che abbiamo parlato di contagio no? delle difese che questi strumenti in qualche modo obbligano non solo i giuristi ma mi viene da dire l'educazione cioè l'educazione e l'utilizzo sano di questi strumenti la scuola è un dramma è totalmente assente ancora oggi noi abbiamo centinaia migliaia di docenti che non sono digitali per cui parlano con questi studenti in classe lavorano con gli studenti ma gli studenti sanno molto più di loro di come utilizzare il digitale per cui l'inadeguatezza della scuola sicuramente il problema familiare la disattenzione delle famiglie ma mi viene da dire anche l'ignoranza delle famiglie nel comprendere quali possono essere i pericoli di un utilizzo spinto del digitale di stare troppo tempo in rete eccetera eccetera perché non hanno neanche loro gli strumenti per cui è un rincorrere a questo punto a delle situazioni che sono già un po' fuori controllo sicuramente per cui dare la colpa ai tecnologi sicuramente vabbè ci giocano anche loro però di fatto non c'è nessun limite e mi viene da dire lì giuridico se no come abbiamo detto anche negli altri corsi come sta cercando di fare l'Europa eccetera perché le piattaforme il cosiddetto mondo virtuale diventa il come dire il teatro più feroce per quanto riguarda il business perché il business vero ormai si fa online perché gli algoritmi sono molto più attraenti pervasivi eccetera di quello che può essere di noi signore e signori che camminiamo per strada e vogliamo comprarci un paio di scarpe cioè devi tu uscire per comprare un paio di scarpe con le piattaforme siccome tu hai guardato una scarpa per una volta vieni bombardata da tutta una serie di scarpe molto simili finché non cedi e la compri allora ci sono delle misure da poter adottare ma non si vogliono adottare oppure non si è ancora capaci e non si è così veloci nell'adottarle e qui parlo di educazione di appunto limiti giuridici e così via sanzioni eccetera eccetera e soprattutto un accompagnamento da parte dei familiari che sono essi stessi corretto quello che ha detto la 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 Edvige mi permetto di chiamare Edvige in cui i primi sguarniti per gestire questa cosa sono i genitori ecco questo per dire che passano abbiamo visto anche nelle statistiche che avevo detto io un terzo della nostra vita lo passiamo online lo passiamo online dove non c'è nessun controllo cioè senza contare poi il disagio giovanile che emerge non è che è causato dalle tecnologie il disagio giovanile c'è c'è le tecnologie lo esalta in maniera drammatica e lo moltiplica certo no? per cui non è che colpa di facebook cioè non è che che l'autobus che travolge la vecchietta è colpa dell'autobus cioè come posso dire vuol dire che non c'è un altro siamo sempre noi che agiamo gli umani che agiscono no? benissimo Enzo scusa si era parlato anche di autoregolazione a partire degli uditi mi veniva in mente io Edvige forse non c'era quando io sono reduce da questa conferenza nazionale di bioetica per le scuole sull'intelligenza artificiale che è stata molto interessante quindi oggi io sono veramente immersa in questa atmosfera autoregolazione ma io ad esempio sto pensando come sia stato difficile se non impossibile chiedere non dico imporre agli studenti di non usare in classe per quel determinato numero di ore della lezione gli smartphone non so se era una misura mi sembra estremamente mite eh paternalismo benevolo ma la cosa ha provocato una reazione in consulta sembrata che che la libertà venisse cosa ne dite a me sembra una cosa ragionevole in fondo chiedere che per un paio di ore non venisse consultato in modo compulsivo eh questo apparecchio dovrebbe essere presentato come una sfida per i ragazzi una sorta di competizione no? bisogna entrare nel meccanismo come dire? perché non è stato preso in considerazione non è stato accolto non se ne parla più chiedo a voi perché io sinceramente continuo a non capire i prestiti dovrebbero credo che ci sia anche in qualche modo un regolamento che lo preveda questo eh Enzo tu sai qualcosa? a questo non lo so dire se c'è un regolamento so per certo che alcune scuole poche in Italia molte di più negli Stati Uniti che come ben sapete soltanto fino a qualche mese fa si guardavano bene eh dal controllare queste piattaforme più che tanto ma per un motivo molto semplice perché queste piattaforme avevano cessato di essere tecnologiche ed erano diventate digitali cioè pervasive quindi avevano la politica presenti nei punti più alti e quindi condizionare le scelte e vabbè rimane il fatto che in alcune scuole erano proprio proibiti gli smartphone e dovevano essere devono essere consegnati ma ho letto che qualcuna anche in Italia ecco il dramma il dramma del condizionamento e della regolamentazione pensate a quanto è stato difficile in Europa non negli Stati Uniti in Europa a mettere a punto questo AI Act e a farlo definitivamente badate bene che nel livello più pericoloso nel terzo livello quello della proibizione inizialmente erano previste molte di queste piattaforme non in maniera nominativa ma sulla base del servizio che veniva da loro servizio chiamiamolo così da loro svolto con un'azione di lobbying attestata proprio OpenAI ChatGPT e altre non parliamo Google figurarsi si sono fatte togliere infatti non figurano come tali nella parte più pericolosa e però figurano inevitabilmente ma c'è un problema poi di fondo l'avete visto in quella cenna non ho potuto entrare nei particolari OpenAI che aveva detto no e ora ci fermiamo non facciamo più nulla non si può essere ChatGPT5 ma esce questo strumento che è la macchina della voce del quale non vi ho parlato ma che meriterebbe da so badate bene che non è ancora stato rilasciato non è stato rilasciato perché chi è riuscito a realizzarlo è consapevole della pericolosità estrema che può provocare non solo nelle mani di sconsiderati ma nelle mani di ragazzotti nelle mani di e poi figurarsi nelle mani di criminali o attenzione di gruppi politici io mi ero un po' occupato di questi gruppi politici che operano su internet e operano su internet da tempo sovvenzionati i loro stati i troll di san pietroburgo sono sovvenzionati da Putin e così i cinesi e non soltanto loro ce ne sono e sono di una pericolosità estrema e hanno incominciato badate bene poi si impara in rete ricattando le imprese anche piccole bloccando i loro dati online e chiedendo una ricompensa che poi non vengono mai restituiti vabbè ma insomma e la maggior parte li paga ma poi sono saliti di livello e adesso riescono a produrre dei filmati totalmente falsi che possono minare abbondantemente non soltanto processi democratici le prossime elezioni europee c'è già l'attivo sono già attivi ora figurarsi a ridosso ma quelle americane e quindi ecco come come vi dicevo però lì il problema qual è? Il problema è che adesso con questa strumentazione anche le piccole strutture quelle che un tempo i garage ricordate le piccole realtà che da giovani studenti nascevano nei garage familiari riescono riuscirebbero ad emergere ma come? Facendo in casa cioè i nuclei ristretti e non controllabili delle realtà che se poi lanciate in rite e poi in qualche misura si possono fermare ma dopo che se ne sono impossessati i gruppi capite che e quindi l'esempio che arriva e ormai per fortuna non si fa più della pericolosità dell'intelligenza artificiale che si può regolamentare come lo si è fatto con la bomba atomica ma non funziona non funziona perché lì il percorso è un percorso di materiali di utilizzo di questi materiali e percorso della costruzione di quello di cui stiamo parlando non è controllabile in questa maniera e è sempre più accessibile a molti per cui ecco io non appartengo alla parte alla fazione degli apocalittici do per certo che i giovani prevalentemente come quelli che abbiamo ascoltato questa mattina e poi anche oggi pomeriggio sono molto più fiduciosi ma proprio perché sono vissuti a contatto soprattutto questa ultima generazione con il web e con la realtà digitale estrema e quindi non se ne spaventano più che tanto anche se immunizzati quasi immunizzati ahimè deve esserci perché adesso la possibilità che degli algoritmi possano programmare algoritmi compositi con le reti neurali astrati nessuno di coloro che ha partecipato alla costruzione di queste reti è in grado di dire quale sarà il risultato infatti il grosso dibattito di un anno fa era perché chat gp4 in particolar modo dava dei risultati che non si aspettava nessuno e quindi la pericolosità è arrivata con immediatezza piccolo problema giustamente economico tutti vogliono correre ai ripari e quindi ecco le grandi strutture google e quant'altro vogliono il loro chat gpt e quindi ecco ahimè una corsa certo a fermare ma anche ad avanzare e una delle accuse che veniva fatta l'Europa con le multe che dava soprattutto l'Irlanda sede europea di queste società e le dava quindi per conto dell'Europa ma soprattutto con queste normative è state bloccando il progresso l'avanzamento dell'intelligenza artificiale ecco ecco questo è proprio questa dicevo questa pericolosissima confusione che noi sempre commettiamo tra il progresso inteso questo avanzamento come progresso che dovrebbe avere un significato ben diverso dal punto di vista civile e moralice è questo è un vecchio discorso e senti ma c'è anche poi il grande tema della violenza perché qui abbiamo affrontato soprattutto l'auto lesionismo ma io sono veramente sgomenta davanti alle violenze che continuano che i giornali danno testimonianza a questo proposito l'avete letto il rapporto dell'UNESCO è fatto o emanato il 25 novembre il giorno del proprio del contrasto alla violenza alle donne che c'è la giornata internazionale no? sì contro la violenza alle donne l'UNESCO ha emanato proprio un report lo trovate sulle mie slide che Christopher gentilmente ha riferito esatto sì esatto in fondo c'è questo riferimento e c'è un'analisi di quanto queste tecnologie cioè l'utilizzo delle piattaforme soprattutto da parte dei giovani ma ci sono delle aziende proprio e proprio esercitano violenza in rete per cui avvantaggiando pedofili piuttosto che stalker e così via ha fatto tutta un'analisi e vi consiglio di leggere quel rapporto assolutamente scusate io ho perso non vedo più Luisa Marnati che è voce estremamente autorevole ci sono ci sono ecco Luisa cara ecco tu che ti occupi di intelligenza intelligenza del corpo che cosa ci puoi dire su questo scenario apocalittico sì a quello che dicevate prima sui ragazzi sul telefono a scuola io l'anno scorso ho fatto diciamo aspetta che ho qua il gatto che mi faccelo vedere il gatto è sempre una presenza ah è meraviglioso è un'immagine è un'immagine che ci riempie di meraviglia grazie 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 figurati ecco dicevo era un ciclo di incontri sull'acqua e vita organizzati a livello di distretto e sono stata nelle classi prime e seconde liceo ecco all'inizio della lezione l'insegnante che era con me passava con la scatola e ritirava tutti i cellulari quindi senza nessuna senza nessuna costruzione probabilmente c'era un regolamento di istituto esatto io questo l'ho visto sia a Rapallo che a Recco che a Santa Margherita quindi parlo della nostra zona lì e poi ho visto che anche quando li restituiva si guardavano un attimo però c'era l'intervallo c'era la ripresa delle lezioni molto tranquillamente tornando al discorso purtroppo della violenza e di quello che sta purtroppo accadendo visto adesso un filmato anzi ieri sul telegiornale di un signore che è stato aggredito da due minorenni preso a calci pugni cioè è veramente allarmante e il recupero secondo me è proprio un recupero attraverso il corpo cioè ritornare al gioco perché noi giocavamo giocavamo a prendersi a nascondino adesso se ne parli i ragazzi non sanno neanche che cos'è palla prigioniera palla avvelenata ti guardano come se parlassi un'altra lingua e soprattutto nel lavoro terapeutico cioè il passaggio è quello è un recupero attraverso la dimensione proprio del corpo perché fin dal grembo materno fino a tutto l'arco della vita noi siamo in un contesto relazionale e quando vedo anche sull'autobus il bambino in carrozzina e la mamma che gli dà il cellulare perché sono questo sbraita questo è proprio l'inizio di un circolo vizioso e poi il vigi può chiaramente saperne molto più di me però è veramente un loop che ti ritorna indietro e l'esempio è ok non ti do il cellulare ma gioco con te cioè ti distratto faccio un'altra cosa ti prendo anche in braccio un contatto una relazione corporea certo 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 eh sì questo punto è uno dei punti cruciali non ho sviluppato un aspetto del volume di Hayd una delle critiche che lui muove che è stata poi quella un po' esagerata l'ha esposta che sarebbero alla base di questa incapacità dei ragazzi adolescenti e or già già giovani già quindi la generazione Z di vivere una vita di avere una vita sociale piena è quella di una incapacità genitoriale ben definita vale a dire i genitori non hanno più permesso ai figli di giocare in piazza per le strade in piazza con loro coetanei senza l'assistenza genitoriale o proibendolo definitivamente e questo naturalmente rassicura i genitori ma priva come priva eliminando il gioco una parte del gioco nella sua dimensione spontanea quella che è una formazione propria degli animali dei mammiferi in particolar modo e quindi anche e soprattutto dell'uomo e quindi metterebbe questi giovani sempre più incapaci di rapportarsi a coetanei e di chiudersi nelle loro comunità rassicuranti e autoreferenziali sì ma è proprio è la nostra città la piazza dove sono più le piazze quelle piazze no la comunità ecco Enzo Enzo tu cosa puoi dire te le ricordi no le piazze le nostre piazze Enzo soprattutto per me che io ho dei ricordi bellissimi dei ricordi bellissimi di me bambini certo ma certo ma l'ombra di lui Enzo che sente perché volevo sentire questa testimonianza del no perché in effetti adesso abbiamo parlato tanto delle nuove città io tra l'altro ho scritto di un libro di Stefano Mancuso che si chiama Fitopoli no che è questa città che lui immagina come dovrebbe essere no quasi come una specie di e come dovrebbe essere sul modello arborio e quindi è tutta una città di 15 minuti tutto è vicino è tutta portata di mano in cui le relazioni si intrecciano ecco questa che non diventi un'utopia che non sia un'utopia ecco quanto possiamo ancora fare noi su beh insomma so che l'ecoistituto si sta molto impegnando anche su questo Enzo la difesa del verde entro non ci sente sì che mi sento effettivamente stiamo cercando di fare qualcosa visto che stanno lanciando il piano del verde a Genova ma è una battaglia molto difficile molto molto difficile ci sono delle città che sono certamente da prendere come riferimento comunque è un problema veramente molto pesante perché viene considerato oggigiorno come un male necessario per fare il PUC il nuovo PUC per cui cioè non è che si dedichi attenzione né risorse sufficienti a questo problema io parlo di di Genova probabilmente Gabriella che vive altrove a Trieste nella bellissima Trieste quindi avrà avrà delle esperienze diverse noi noi ci stiamo appunto impegnando come tu ben sai certo niente non sono molto fiducioso dobbiamo coltivare la speranza che 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 non è ottimismo è altre cose è una virtù è una virtù che esige forza pazienza Gabriella effettivamente io quando penso a Trieste l'immagine che io la mantengo e che ho è una città c'è la comunità la si sente le piazze stesse invitano allora abbiamo nel punto di vista politico ci stanno governando degli sciagurati per cui che stanno bypassando tutti i regolamenti del verde eccetera eccetera vogliono fare un nuovo via per cui spellare un po' di roccia calcica non vi sto a dire perché se no mi metto a piangere diciamo che per fortuna noi abbiamo anche un piccolissimo retroterra che è il Carso dove ci sono ancora dei piccoli comuni rurali direi no perché c'è il vino eccetera eccetera però l'attenzione alla città è drammatica nel senso che proprio stanno scardinando quelle che possono essere anche le comunità rionali che ancora resistono in certi riondi abbastanza tradizionali diciamo che c'è un grosso movimento cittadino che sta opponendosi ecco per cui veramente abbiamo poi un'altra cosa che è importante che forse non abbiamo parlato ma abbiamo tantissime società sportive per i ragazzi che purtroppo anche nelle grandi città io vedo genitori che lavorano poi perché si lavora e che affidano cioè coinvolgono i propri figli ma anche i figli disabili adesso con i Lions stiamo facendo un bellissimo progetto di inclusione di inclusione sportiva dei disabili abbiamo il campione del mondo di tennis da tavolo che è un ragazzo intelligentissimo l'ho conosciuto l'altra settimana a vent'anni praticamente ci sono tante società sportive i genitori si sforzano di appunto portare questi ragazzi qual è il problema che lo porti a fare le due ore di calcio che lo porti a fare le due ore di ginnastica artistica però non c'è più abbiamo una situazione che è quella dei ricreatori comunali di origine asburgica ancora dove per fortuna c'è un orario prolungato dove lì dentro puoi fare lo sport però ormai le società sportive fai le due ore di ginnastica e ti rimandano a casa il bambino il ragazzino cioè non ci sono strutture protette perché devono essere protette le piazze non ci sono più un bambino di sette anni non lo mandi vicino a piazza unità insomma non è possibile però non ci sono situazioni se non appunto è in carso in questi paesetti dove si organizzano con le proloco le società sportive e si lì come dire si rigenera la comunità perché quello che manca è la comunità hanno distrutto le comunità hanno distrutto le comunità certo no cioè noi penso anche voi io mi ricordo c'era io abitavo in una casetta però andavo nella corte dove c'erano i condomini e si giocava lì c'era lo scivolo l'altalena e così via sempre meno mancano queste strutture e lì ti assicuro che i bambini si dimenticano del cellulare assolutamente siamo d'accordo sentite io credo che siano emerse tantissime tantissime idee da questo da questo incontro non so se credo che voglio rivolgermi a Chris se il tempo sta per terminare e allora a questo punto ci congediamo se esistono se ci sono e vi darei allora l'annuncio del prossimo incontro che sarà il 16 aprile sempre all'ora 17.30 sarà la dottoressa Angela Montanari che è chimica che parlerà dell'economia circolare il ruolo dell'intelligenza artificiale dicendo cose meravigliose sull'economia circolare su cose che lei fa e non vi dico perché sono estremamente interessanti e belle allora vogliamo congedarci vogliamo io saluto tutti perché penso non vedo Chris ma credo che ci chiami il nostro non ci sono limiti di tempo se volete continuare possiamo andare avanti altrimenti ah sì sì ma io ne sono ben felice le domande sono tante crescono e quindi benvengano ecco io avrei tantissime cose da dire devo salutare ah devi salutare ci chiama io anch'io in cucina prima o poi dovrò andare che sono dei luoghi di comune è l'ora della pappa comunque e Enzo e a te allora questa tu che ci hai illustrato e ci hai aperto questo scenario quali potrebbero essere delle conclusioni anche sulla base degli interventi che sono stati fatti tutti molto belli intelligenti ma tutti molto molto interessanti conclusioni beh no non ne voglio non ne voglio non ne voglio è impossibile è impossibile farne però ecco l'unico invito che mi sento di rivolgere è attenzione tenere questi percorsi questi processi questa realtà ben presente nelle nostre riflessioni nei nostri rapporti perché sono dimensioni che possono continuare perché già hanno modificato e stanno modificando ma possono modificare ancora di più di quanto stanno facendo il nostro le nostre maniere i nostri modi di vivere insieme e di vivere realtà sociali culturali e soprattutto politiche dei segni ahimè sempre più inderebili come avete giustamente fatto notare io non ho affrontato l'odio online ecco che è un capitolo che se si apre merita di essere sviluppato in maniera autonoma ma che come avete visto sta crescendo a dismisura con realtà professionali ma non solo dove il gruppo si rafforza e va all'attacco i problemi del bullismo cyberbullismo e così via certo avevano questo leggendo avevano scoperto che chi agiva in maniera sistematica cyberbullismo stalking online eccetera erano le case produttrici di wargame tutte di maschi ecco ecco questo è molto interessante questo legame certo certo questa è una cosa che forse dovremmo sottolineare questo dei giochi ecco dei wargames sì è che è emerso dalla tua relazione ma credo che ci sia effettivamente una responsabilità specifica perché questi wargames hai detto una cosa di estremo interesse che varrebbe proprio la pena almeno lì li hanno beccati mi viene da dire ecco almeno li hanno beccati per cui per fortuna li hanno certo però questi episodi di violenza incontrollata che ci sono perché se voi avete visto non solo quell'episodio terribile che è stato fatto ai danni di quella persona ma sono sono scontri che avvengono tra ragazzi e tra ragazze sì sì sono scontri di una violenza spaventosa spaventosa un po' più vicino alle scuole se ne dà notizia quindi anche ragazzi e ragazze quindi indipendentemente vanno attrezzati vanno attrezzati ecco e allora qui appunto sto pensando quanto gli wargames possono avere agito anche sull'incentivare questa forma di una violenza che si esercita poi del tutto gratuitamente perché penso sì sì ma poi sono felicissimi assolutamente questo è un altro capitolo estremamente inquietante bene sentite allora sì visto che l'ora è tarda e che i nostri che noi la nostra comunità familiare chi ce la ci chiama allora io vi ringrazio tutti molto vi ringrazio moltissimo grazie grazie anche se online di godere delle vostre fisionomiche va sempre bene è stata una gioia isperata dopo tanti anni e quindi grazie davvero sarai con noi da Rossella anche la nostra Rossella sono amiche amiche del Sir Optimist che io ho ritrovato che adesso poi incontrerò anche di persona bene grazie a Cristo di lui non potremo far no grazie grazie a Cristo bacio a tutti buona serata